Oggi è il 3 settembre. 1943, siglato segretamente l'armistizio di Cassibile. 1982, la mafia uccide il generale dalla chiesa e la moglie. 2004, Beslan, le forze speciali russe irrompono nella scuola numero uno. Commenta il fatto del giorno Andrea Filippi, direttore della Nuova Sardegna. Mi piace parlare di scierea come figura straordinaria dello sport italiano.